In tempi brevi assicureremo il colpevole alla giustizia, dichiararlo la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese, che interviene sugli avvelenamenti a danno di cani e gatti avvenuti sul territorio nelle ultime settimane. Un'occasione per rispondere alle accuse di indifferenza arrivate da più parti. Questa amministrazione spiega alla sindaca, dell'interesse delle indagini che si stanno svolgendo in stretta collaborazione con la polizia municipale, non può rivelare dettagli di un'operazione che è coperta dal segreto istruttorio. Cerchiamo di assicurare il colpevole alla giustizia piuttosto che fare di questo dramma un momento di sterile visibilità.